Abbiamo notato che era possibile effettuare una serie di aggiustamenti, questo perché si sono liberati appunto degli spazi finanziari, abbiamo il collegio dei revisori quindi ci ha proposto la possibilità di integrare quella prima bozza e l'ha fatto in maniera ufficiale come è giusto che sia tra organi e istituzioni che lavorano seriamente nell'interesse della collettività. Io eviterei di gridare al lupo al lupo ma approfondirei effettivamente quelli che sono i dati e le carte. Quando i servizi comunali sono rallentati e sono bloccati perché ancora il bilancio non perviene in commissione, se per l'assessore questo è niente di scandalistico ne prendiamo atto. Sicuramente è una grave limitazione dell'erogazione di servizi comunali c'è e questo è determinato da rallentamento e da a mio avviso incapacità amministrativa per come è dimostrato sotto gli occhi di tutti lo stato del paese in cui siamo ridotti. Il bilancio è stato corretto secondo le indicazioni date dal collegio dei revisori e lo abbiamo già rimandato ai revisori per la verifica delle correzioni e ritengo che io venerdì possa fare la proposizione all'aggiunta municipale con le variazioni che chiede il collegio. Nulla di allarmante, è una normale situazione derivante dai ruoli, quindi da chi propone e da chi controlla.